Se c'è un animale che incarna la frase lupo travestito da pecora, è la mantide religiosa. Nonostante le loro dimensioni, le mantidi sono i predatori più temuti nel mondo degli insetti. Il nome deriva dalla postura, che ricorda quella di chi prega. Sono carnivore e mangiano praticamente qualsiasi cosa si muova, comprese altre mantidi. Afferrano la preda con riflessi rapidi e precisione. E una volta immobilizzata, iniziano a divorarla viva. Il cannibalismo è comune nel mondo delle mantidi religiose, specialmente durante la stagione degli amori. Infatti, completato l'accoppiamento, la femmina mangia il maschio per ottenere un pasto nutriente ed assicurare la sopravvivenza della prole. Le mantidi religiose vengono raggruppate in 2400 specie di varie forme e dimensioni. Sono diffuse in tutto il mondo, principalmente nelle regioni più calde, alle latitudini tropicali e subtropicali.